benvenuti ad una nuova puntata di agora marketing dove parleremo dello scenario dei media in italia uno scenario sempre più ibrido più fluido dove sono centrali il dato e la tecnologia e parleremo anche del nuovo identikit del consumatore che cambia inevitabilmente e resta al passo con i tempi lo faremo da un osservatorio privilegiato quello di omnicom che è una media agency di livello internazionale e lo faremo grazie al contributo di uno dei suoi rappresentanti ovvero marco robbiati research and marketing sites director di omnicom media group a cui naturalmente do il benvenuto grazie grazie a voi per l'invito ecco dottor robbiati sicuramente per comprendere lo scenario attuale digitale è una delle parole chiave ma in italia ecco a che livello siamo di alfabetizzazione digitale questa è una domanda diciamo che pone un interessante osservatorio con cui vedere l'italia la pandemia ha spinto l'alfabetizzazione digitale delle famiglie italiane questo è stato un passo molto importante in un periodo diciamo sventurato per altri versi perché costretti a casa le famiglie italiane hanno dovuto tramite la dad lo smart working o l'e commerce forzato per produrre per produrre beni e servizi per diciamo consumare bene servizi ha dovuto trovare quella dimestichezza con le attività digitali che era venuta a mancare prima giusto per capire durante il periodo post covi per una ricerca fatta dal census con auditel praticamente un terzo delle famiglie italiane per la prima volta ha avuto a che fare con una di queste tre attività quindi quando parliamo poi dell'online o dimestichezza digitale non intendiamo che con lo smartphone una volta nella vita mi collego su internet ma proprio in maniera regolare ho svolto una di queste tre attività ma il dato più importante per capire quanto è stato importante questo avvento è stato che sempre durante questa intervista sulle famiglie mi hanno chiesto qual è stato il grado di soddisfazione delle attività di smart working della formazione a distanza piuttosto che del consumo prodotti tramite e commerce e tutti hanno avuto un grado di soddisfazione abbastanza alto quelle 77 80 per cento delle famiglie italiane si è detta molto soddisfatta di questa esperienza questo chiaramente poi fa sì che questo tipo di abitudini questo tipo di dimestichezza digitale poi si protragga in continuazione anche nel futuro e questo è quello che poi vediamo nel nostro mutato scenario per cui diciamo il covi della pandemia ha spinto in maniera molto importante la digitalizzazione tra l'altro su questo giusto per fare una piccola notazione poi per quanto riguarda diciamo il nostro paese in realtà più che digital divide di cui ogni tanto si parla se vuole parlare di digital life divide che cosa intendo un concetto più che altro legato alla velocità di consumo della della banda e quindi poi di internet alla propria esperienza perché all'interno del 90,2 per cento mi sembra che dicono famiglie italiane collegate internet che sembra quasi un valore che abbraccia la totalità della popolazione italiana in realtà noi abbiamo che un 9 per cento non è per nulla connesso appunto già per differenza ma un 20 per cento forse un 30 è collegato internet solo esclusivamente tramite mobile e questo è un problema per le cose che ho detto prima perché evidentemente tutta quella serie di attività dai consumo di beni e servizi piattaforme di streaming da smart working vengono notevolmente penalizzate dal fatto che l'accesso è dovuto solo esclusivamente sulla parte mobile quindi abbiamo queste due vie da una parte una parte del paese diciamo residuale con il collegamento mobile e l'altra addirittura con velocità e iperconnessione che permette esperienze di consumo che diciamo sono gli permettono esperienze diverse che per altri non sono arrivabili. Certo insomma c'è una differenza immagino anche territoriale geografica probabilmente tra le regioni del sud e quelle del nord quando si parla di digital divide naturalmente anche questo settore influenza in maniera insomma o positiva o negativa a seconda di uno dove si colloca all'interno della penisola. Della geografia esatto anche perché l'investimento sulla banda larga sappiamo tutti che diciamo molto spesso viene lasciato alle aziende non è all'interno diciamo c'è un programma specifico ma che richiede investimenti e tempo per diciamo l'allargamento della banda larga. In questo momento l'Italia rispetto agli altri paesi europei in termini di penetrazione di banda larga è diciamo tra gli ultimi posti. Ha fatto dei balzi avanti negli ultimi anni però sicuramente non è a livello di altri paesi europei. Certo e lo abbiamo visto anche con i problemi di streaming che si sono verificati soprattutto quelli che hanno riguardato il calcio insomma una piattaforma in particolare con insomma quella famosa rotella che girava. Quello è stato l'inizio sicuramente un'attività in cui hanno immaginato che il calcio così trasversale su tutta la popolazione fosse un driver che poteva portare una maggior diciamo digitalizzazione un aumento della banda larga e sicuramente tra le prime esperienze durante l'autunno con la famosa banda larga che girava e comunque alla fine del campionato poi le cose sono nettamente migliorate. Però diciamo è stato un driver legato a un elemento esogeno quello del calcio quindi hanno preso diciamo questa larga fetta di abbonati e diciamo su questo hanno cercato di scaricare quota a parte il tema dell'aumento della penetrazione e della digitalizzazione. Hanno sfruttato insomma questo volano che era presentato dal calcio ovviamente in Italia per fare poi degli interventi anche strutturali e migliorare chiaramente l'accesso per l'intera popolazione. Parliamo invece ecco di investimenti pubblicitari che margini ci sono in questo ambito perché lo ricordiamo agiamo naturalmente in un contesto molto complesso dal punto di vista economico finanziario e naturalmente anche politico quindi il margine per gli investimenti e in questo caso investimenti pubblicitari immagino sia ridotto rispetto a prima oppure no? Allora anche qua andrebbe fatto un distingo allora se prendiamo il classico perimetro di osservazione che ne abbiamo diciamo con i dati a disposizione del mercato è un perimetro diciamo ridotto in contrazione aumenta l'inflazione si contraggono i consumi le aziende che devono necessariamente sopperire per non alzare il prezzo l'ultimo prezzo verso il consumatore ridurranno i loro margini e necessariamente la pubblicità sarà parte di questa riduzione per permettere appunto loro di di avere un'economia diciamo sostenibile un periodo di grande compressione però all'interno di questo periodo classico che quindi prevediamo una parità o una lieve contrazione sugli investimenti pubblicitari c'è da dire che questo perimetro col passare del tempo è rimasto diciamo in una formula classica mi intendo parliamo di investimenti di tv stampa radio web nella sua totalità però nel passare del tempo le forme di comunicazione si sono sono mutate sono cambiate mi riferisco alla spesa ad esempio sull'influencer mi riferisco le spese sulle connect tv mi riferisco le spese sul gaming piuttosto che sullo sports e sports quindi in realtà se uno avesse l'opportunità e ho visto la grande anche difficoltà di poter raccogliere tutti questi investimenti sicuramente questa contrazione che noi vediamo sul perimetro classico abituati a vedere gli investimenti in realtà sarebbe inferiore quindi probabilmente bisogna avere l'opportunità di vedere una lente un po più grande di quello che diciamo il perimetro classico e qui siamo abituati a confrontarci diciamo e si certo con nuove tecnologie insomma che avanzano e quindi anche il perimetro immagino degli investimenti pubblicitari si allarga o comunque si diversifica rispetto al passato con tutta la difficoltà ovviamente di poterle monitorare quindi questo un po il tema quindi la maggiore difficoltà di poterne fare una rendicontazione però la nostra sensazione che comunque il perimetro di investimento le necessità le richieste dei clienti sia molto più largo rispetto a prima e dicevo il perimetro con cui siamo abituati a confrontarci storicamente non rappresenta più perfettamente l'investimento delle aziende in comunicazione certo ecco abbiamo parlato anche appunto nell'introduzione iniziale della centralità delle tecnologie e dei dati come influiscono poi per la composizione di una campagna pubblicitaria influiscono soprattutto nell'ultimo periodo in maniera abbastanza importante perché ci sono state diverse diciamo driver per quanto riguarda la digitalizzazione del paese non ultima il passaggio della televisione con le sue varie forme di consumo con lo switch off del digitale quindi con l'inserimento nelle case nelle famiglie italiane delle smart tv che permettono di collegare gli italiani un altro strumento per collegarli diciamo la rete 15 milioni di nuove televisioni in quell'inserimento la televisione entra all'interno di un ecosistema digitale già abituato l'utilizzo del dato e anche qua vediamo prima di tutto la televisione far parte di un ecosistema digitale complesso di schermi e l'utilizzo del dato tanto caro alle aziende per questioni anche diciamo di preciso marketing quindi l'opportunità di spendere al meglio comunicando alle persone di interesse in selezione target molto specifiche piuttosto per abitudini o diciamo di consumo o addirittura dati di prima parte su cui poi si apre il tema del cookie less e dell'opportunità per il mondo delle connect tv del mondo televisione digitale in generale di occupare un maggior spazio diciamo rilevante però la tecnologia i dati ormai di questo sistema interconnesso quindi riconoscere il consumatore sulle diverse piattaforme capire esattamente che tipo di consumi qual è il suo stile di vita quali sono le sue necessità come si è manifestato in rete nell'ultimo mese ad esempio capendo quali sono le sue necessità e quindi comunicare in quel momento è diventato la base fra non molto vedremo sicuramente anche l'ambito delle tv ad esempio aprirsi al programmatic quindi cosiddetto programmatic tv che null'altro che l'utilizzo del dato in fase diciamo di pianificazione media quindi diciamo c'è una spinta molto importante da parte sia delle aziende che richiedono una maggiore precisione di investimenti sia nostra nell'offrire comunque prodotti e soluzioni tecnologicamente sempre più avanzate che vadano incontro diciamo le loro esigenze certo una quindi montagna di dati se così possiamo definirla che aumenta e che contribuisce insomma a creare una profilazione immagino anche dell'utente sempre più precisa e questo poi è determinante quanto appunto si compone la campagna pubblicitaria assolutamente vediamo anche l'utilizzo dei dati di prima parte da parte diciamo di diverse aziende che cercano di costruire su questi dati di prima parte sarebbero i dati dei naviganti sulle property ad esempio della stessa azienda con l'opportunità grazie alla tecnologia questo nuovo ecosistema così di espanso fino anche alle smart tv dicevamo di poter rintracciare il consumatore all'interno di tutti questi spazi di questi momenti quindi comunicare a lui in maniera molto precisa con dei messaggi molto rilevanti che io diciamo un po l'ambizione che è sempre stata del nostro mercato per lungo tempo certo certo comunicare insomma in base alle esigenze poi della della singola persona del singolo fruitore sempre più insomma anche personalizzata diciamo questa attività assolutamente anche l'ultimo diciamo festival di canna nel 2022 abbiamo visto si è visto la necessità di parlare di creatività comunque legata la tecnologia e dati affinché sia rilevante nel momento in cui comunica in quel preciso spazio momento quindi una necessità maggiore di integrazione per quanto riguarda creatività e tecnologia quindi ma è come adesso è necessaria proprio perché è un ecosistema quello che si è costruito ecco abbiamo parlato appunto di consumatore ma è un identikit quello del consumatore che naturalmente sta cambiando e sta cambiando in base alle esigenze del momento siamo abbiamo detto in un periodo storico particolarmente complesso dal punto di vista non solo politico lo scenario internazionale la crisi ucraina ma anche economico con i dati dell'inflazione che continuano a salire che penalizzano naturalmente poi il portafoglio appunto del consumatore quindi ecco il consumatore del futuro che identikit che nuovo identikit avrai caratteristiche le caratteristiche la cosa straordinaria che durante il periodo della pandemia un po sia nel consumo dei mezzi ma anche quello del consumatore se dovessi scegliere una parola chiare chiave scegliere consapevolezza la consapevolezza del consumatore per quanto riguarda il suo atto di consumo che sia un prodotto un servizio ma anche una televisione un contenuto audiovisivo grazie anche ad esempio alla personalizzazione quindi l'abitudine alla scelta è diventato molto molto importante la clusterizzazione la ricostruzione per target per socio demografica piuttosto che comportamentale sta diventando veramente stretta l'agire sociale i valori la trasmissione dei valori soprattutto anche dei brand in uno scenario così complesso come abbiamo definito prima l'importanza del consumo responsabile di partecipare col proprio atto d'acquisto a un'esperienza di consumo che non è semplicemente funzionale l'acquisto di un prodotto un bene servizio ma si sente partecipi di comunità di community in cui invece si condividono diciamo dei valori ho letto recentemente un'analisi abbastanza diciamo recente in cui il 34 35 per cento delle persone dichiarano che il loro comportamento il loro acquisto è in funzione anche del comportamento responsabile sociale a meno dell'azienda quindi siamo veramente di fronte a un ecosistema un'interconnessione abbastanza importante la definizione di un consumatore con uno stile di vita un cluster un parametro socio demografico non è assolutamente più rilevante bisognerebbe parlare di valori che invece diciamo accomunano i consumatori e poi ogni consumatore può anche partecipare a più community in questa maniera di diciamo sentire quindi targetizzazione clusterizzazione sono tutte parole che ormai appartengono quasi anacronisticamente a prima del periodo pre covid che veramente in soli due anni sia per i consumi diciamo mediale sia che per l'atteggiamento e la proposizione del consumatore è completamente cambiata e stravolta noi ci troviamo all'inizio di un mondo nuovo completamente nuovo di cui diciamo stiamo imparando adesso più o meno diciamo come muoversi e come orientarsi certo ed è un consumatore che appunto a causa anche di tutto lo scenario che abbiamo descritto appunto economico di una riduzione del potere d'acquisto deve fare delle scelte e quindi diciamo la disponibilità economica che ha la va a investire in aziende che trasmettono appunto anche dei valori che non puntano esclusivamente alla vendita di merce ovviamente poi il tema della partecipità della della facilità d'uso della consapevolezza appunto dell'acquisto del prodotto servizio rimangono alla base soprattutto la praticità e diciamo la chiarezza per quanto riguarda l'offerta e il consumo del prodotto che viene offerto questo sicuramente rende un consumatore molto appunto diciamo consapevole rispetto a prima del suo ruolo del fatto che in questo momento è acquirente che ha un'azienda che gli propone i suoi prodotti e servizi tramite la pubblicità e con cui instaura quasi un patto diciamo per quanto riguarda il consumo dei propri beni e servizi quasi un rapporto più che semplicemente una vendita ecco e possiamo dire a proposito di valori che sostenibilità inclusione sono le parole guida di questo periodo o ne può individuare altre oltre a queste? Sostenibilità inclusione economia rispetto del clima rispetto dell'ambiente c'è proprio un senso quasi di interconnessione delle persone quindi si sentono veramente partecipi di questo mondo e vogliono lo stesso rispetto di chi comunque prende il loro tempo magari per fare una pubblicità o un messaggio pubblicitario per cui devono l'interlocutore deve capire che col consumatore si sta creando una relazione gli chiediamo uno scambio di tempo e di attenzione ai nostri confronti perché vogliamo sottoporli prodotti o servizi che noi riteniamo essere affini ai suoi valori e diciamo ai suoi atteggiamenti e le sue necessità quindi è questo rispetto che diciamo farà sì che comunque si crea una tensione particolare positiva tra diciamo brand e consumatore chiarissimo bene questo insomma il quadro generale del panorama dei media in Italia appunto della nuova figura anche il nuovo profilo del consumatore del presente e del futuro perché come ha giustamente sottolineato è un'epoca nuova che inizia a svilupparsi adesso e quindi stiamo iniziando a comprendere alcune dinamiche e vedremo poi come si svilupperanno in futuro anche e soprattutto grazie alla tecnologia perché poi magari con l'esplosione del metaverso se ne parla tantissimo saranno ulteriori ragionamenti quelli che dovremmo fare assolutamente sul tema del metaverso anche qui volendo diciamo seguire uno dei temi che in questo momento sono importanti c'è anche quello di capire poi come parteciperemo al metaverso perché l'acquisizione dei dati il tema della privacy che in questo momento è così importante come ad esempio l'etica di chi scrive gli algoritmi perché noi poi un esempio pratico noi molto spesso quando interagiamo con i media interagiamo tramite algoritmi cioè in maniera passiva le informazioni le interazioni che noi diciamo utilizziamo ci vengono proposte dei algoritmi, motori di ricerca, piattaforme di streaming di qualunque genere tipo che cercano di indovinare che cosa stiamo cercando e ce lo propongono in maniera anticipativa. Facendo così però ci tolgono un po' l'inerzia quindi in maniera comoda noi lasciamo tutta una serie di informazioni di diverso genere tipo a questi diciamo grandi motori di ricerca che elaborano le informazioni e che poi sono in grado di ricostruire di noi non solo diciamo la parte a noi cosciente ma addirittura se penso che io possa esempio fare un esempio prelevare i tuoi dati di vari consumi prodotti servizi col passare del tempo diciamo il metaverso avrà una conoscenza di te molto più profonda di quando tu non l'abbia coscientemente quindi saremo una parte funzionale del nostro passami il termine gemello digitale che interrigerà dentro questo quindi siamo di fronte a uno scenario apocalittico una fase di cambiamento a una velocità ipersonica e questo è veramente lascia qui una profilazione anche un po' psicologica potremmo così definirla ma a livello inconscio ma comunque esatto la parte conscia volendo per ridere sarà funzionale al nostro gemello digitale che sarà sia conscia che inconscia quindi avremo le macchine avranno diciamo una conoscenza di noi completa i nostri cambi di abitudini di consumo di visualizzazione dei prodotti cosa cerchiamo non cerchiamo il tempo di intrattenimento quali pagine visualizziamo e quindi rispetto a noi avranno una conoscenza maggiore di noi stessi quasi mi rendo conto che un paradosso però questo è diciamo è quello che sarà l'attore protagonista il metaverso e noi tutto sommato saremo funzionali alla nostra figura di noi e dei nostri desideri appunto anche reconditi quelli più consci appunto e visibile quelli reconditi e poi è lì che le aziende alla fine è andare a colpire e quella sarà l'area diciamo siccome tu una delle aree che diciamo col metaverso verranno sicuramente interpretate e diciamo utilizzate fatto salvo la privacy e tutto quello che in questo momento si dibatte come piuttosto in america dall'altra parte diciamo dell'oceano sull'etica di chi scrive l'algoritmo che come abbiamo capito è così importante per quanto riguarda la nostra vita perché abituati diciamo in maniera profusa ad essere diciamo soggetti passivi di questo tipo di attività perdiamo poi coscienza dei nostri dei nostri che forniamo insomma di tutte le nostre una grande responsabilità da parte di chi scrive di chi lo fa esatto dottor rubiati io la ringrazio tantissimo per averci offerto questa panoramica la ringrazio per essere intervenuto qui alle fonti agora marketing ringrazio a voi e buona giornata grazie bene ringraziamo allora il dottor rubiati si conclude qui questa puntata di agora marketing io naturalmente vi rimando poi a tutto il resto della programmazione delle fonti tv grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti